Musica Let's go bitches La mia voce è un po' diversa perchè sono un po' raffreddato Ma non fa niente, come sapete sono sempre raffreddato durante l'inverno Comunque, dato che molti pensano che io voglio abbandonare COD Vi farò vedere che non è così Non sto più giocando la modalità competitiva Ora deciderò che fare Ma comunque, come vedete, sto sempre cercando di fare serie o video per aiutare voi che mi guardate Non voglio cercare di scadere nella banalità di mettermi a fare live gameplay a manetta per 365 giorni all'anno su COD Classiche cavolate che fanno ridere, eccetera, eccetera Voglio cercare sempre di... se non posso fare tornei o cose del genere, bene, sono qui per aiutarvi Cercherò di fare il possibile prima di Titanfall Comunque, iniziamo subito Questa miniserie che voglio fare è selezionare quelli che sono gli accessori migliori O almeno gli accessori che uso solitamente io quando gioco a COD Le armi migliori, secondo me E i perk migliori Spiegandovi bene le meccaniche di ognuno di questi Allora, per prima cosa partiamo con gli accessori Questo primo episodio è tutto incentrato sugli accessori Il primo accessorio di cui vi parlo è il soppressore di fiamma Che, come avete visto, ho usato in diversi video, se non sbaglio Perché mi sembra anche che era una delle mie classi overpower in cui lo usavo Perché il soppressore di fiamma? Apparentemente il soppressore di fiamma non riduce niente Non riduce statistiche e non aumenta statistiche dell'arma Quindi apparentemente sembra non avere, diciamo, dei pro e nemmeno dei contro Cioè sarebbe solo un accessorio inutile Ma questo perché? Allora, invece non è un accessorio inutile Perché il soppressore di fiamma, riducendo la, diciamo, la fiammata Che esce dalla bocca del vostro fucile, della vostra arma Vi consente di mirare meglio e di controllare meglio il rinculo Quindi di capire dove vanno i colpi Perché molte volte non è facile mirare in mezzo alle fiammate dei colpi E quindi questo consente di avere una precisione extra Il silenziatore pure è un altro accessorio che ho usato in alcuni dei miei video Che secondo me è molto utile alla fine in pubblica Questo specialmente se si gioca da soli Perché questo? Perché il silenziatore, ok, che ha delle parti negative Ma anche delle parti positive Come non si viene, diciamo, visti sul radar Il rumore dell'arma è diminuito Quindi è più difficile che vi sentano E seconda cosa, è più facile eseguire il bersaglio Come nel caso del soppressore di fiamma Ma quali sono i contro del silenziatore? Bene, riduce la portata del 25% Cos'è la portata? È la distanza a cui si può uccidere un avversario Facciamo un esempio Allora, la vostra arma uccide con 4 colpi a 10 metri, giusto? Facciamo conto che avete una riduzione del 25% della portata Vuol dire che quindi ucciderete a 7,5 metri con 4 colpi Sopra i 7,5 metri ci vorranno più colpi 5, 6, 7, dipende ovviamente pure dall'arma Quindi questa è la portata Non diminuiscono il danno Ma la portata, che è un'altra cosa È la distanza a cui si uccide A cui arriva il danno Perché superato una certa distanza Cala il danno dell'arma Ora passiamo al freno di bocca Che praticamente riguarda solamente la portata Il freno di bocca è un accessorio Che non aumenta il danno Ma aumenta la portata Di quanto? Del 20% Quindi la portata del 20% Secondo me è un grande Un grande cambiamento Perché è un quinto della distanza Per esempio sugli SMG è molto valido Perché gli scontri da media distanza E da lunga distanza Ci vuole uno o due colpi in meno a volte Perché ovviamente magari Riuscite a stare in quel range In quella Diciamo in quella distanza Massima Per fare una kill Che magari quei 4 metri 5 metri Vi salvano la vita Perché date un colpo in meno Poi sapete gli SMG hanno un alto radio di fuoco Quindi Sempre meglio Quindi il freno di bocca Non aumenta il danno Ma aumenta solamente la portata Del 20% Un altro accessorio molto utile È il calcio anteriore Che su questo gioco È utilissimo Non è come quello di Black Ops 2 Che aveva una sorta di effetto placebo Io non so se l'avete mai provato Sembrava che rinculavano di meno le armi Ma era una diminuzione talmente minima Che era più un effetto placebo Cioè che voi pensavate Che l'arma rinculava di meno Più che un effetto Vero Visivo Quindi in questo caso Il rinculo tramite il calcio anteriore È diminuito del 25% Che è una cosa veramente elevata Per esempio se lo provate a mettere Su una K12 O un Remington Si nota veramente il cambiamento Che l'arma diventa precisissima Quindi anche questo è un accessorio Molto valido Un altro accessorio valido È il caricatore capiente O i caricatori aumentati Come viene chiamato qui Su Modern Eh sì Su Modern Su Ghost Che aumenta del 50% Le munizioni Quindi per esempio Un Remington Ha un caricatore Da 24 colpi Attraverso i caricatori aumentati Il caricatore diventa Da 36 colpi È molto valido Tra l'altro Non ha penalità Cioè non aumenta La velocità Di ricarica Come su Black Ops 2 Non so se lo sapevate Ma aumentava La velocità di ricarica Cioè aumentava Scusate Il tempo di ricarica Quindi Aveva diciamo I suoi contro In questo caso Non li ha Quindi secondo me Un accessorio molto valido Specialmente su armi Come il Remington Anche sulla K Alla fine è molto valido E ragazzi Io spero che questa serie Vi sia d'aiuto Il prossimo episodio Deciderò Che fare Anzi Non voglio decidere Che fare Voglio che siate voi A dirmi cosa devo fare Volete che parlo Dei perk Secondo me Principali Spiegandovi Come funzionano Volete che vi parlo Delle armi Secondo me Fondamentali Spiegando come funzionano Quindi Fatemi sapere Bitches Io sono qui A leggere i commenti Bella bitches Al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti